Siamo qui con Jericho Sunfire Siamo qui con Jericho Sunfire per una piccola intervista per una piccola intervista La prima domanda è chi è Jericho Sunfire? Chi è Jericho Sunfire? Jericho Sunfire è un breatharian di due anni seguendo una evoluzione di 16 anni dal frutarianismo Ok, Jericho Sunfire è un respirariano sta seguendo un percorso di 16 anni di evoluzione e liquidarianismo liquidariano, prima di diventare respirariano e praticamente Jericho Sunfire è qualcuno che ha venuto contro tutta la società che hanno conosciuto e lo che hanno chiesto e lo che hanno chiesto e lo che hanno chiesto Jericho Sunfire è praticamente avuto l'agrazione della attenzione di ciò che hanno chiesto e lo che hanno chiesto che hanno chiesto un'attro e lo che hanno chiesto per la necessità per la necessità e delle cose che hanno chiesto un'altra cosa è difficile comprendere, quindi puoi ottenere l'interno di fronte quindi tu eri un giocatore di rugby? eri abbastanza famosi nel tuo paese? no, non ero famosi ma ho avuto alcuni tempi e alcuni giocatori e ho avuto un po' di più ho avuto un po' di più e sono ancora molto felice e molto orgoglioso di quello che ho avuto in quanto anni hai giocato il rugby? ho giocato per circa 6 settori 6 settori? l'ultima settimana era in quale anno? non mi ricordo, sono vecchio, quindi non mi ricordo in quanto anni hai avuto? in questo periodo? non mi ricordo 25 anni, 27 anni 20 anni 20 anni e come hai stopato di giocare il rugby? un peccato un peccato che mi ha aiutato di giocare un peccato? un peccato che mi ha aiutato uno un peccato che mi ha il buono una mese un peccato che mi ha detto un peccato che mi ha detto come è la tua mente? come è la tua mente? come è la tua mente? e come è la tua mente? l'evoluzione non solo nella fisica ma nella mente come hai trovato la mente? io ero stupido e ancora stupido per l'altro con te ho dovuto imparare molto perchè ho avuto l'agrazione so molto ho avuto un po' molto per anni e è stato molto traumatico ma ho avuto una caratteristica e ora ho vivito una vita molto divertente in vita come un brefarian seguendo la mia intuizione e facendo quello che voglio fare perché ti racconti con le persone la tua storia? perché sento che è il mio scopo che mi ha dato dal universo per mostrare il potenziale e per dare le persone un miglior comprensione di quello che è la verità di loro divinità sovereignità e il fatto che siamo tutti e godessi quindi tutti noi sono una divinità ma l'abbiamo oggi in un seminario organizzato Luca Speranza ci hai detto che ci sono persone che vogliono che noi siamo di le persone vendono vendono le persone le persone anche sono le persone le persone le persone le persone anche sono bene le persone chi sa? Potremmo non Potremmo non Potremmo non Potremmo potremmo possono fare le decisioni che sono così anti-la vita Hai una domanda per Gerico? Non, ma sono molto felice che sia in Italia Ma in Italia è più importante perché è l'opportunità per molte persone per conoscere l'esperienza Ringraziamo Andrea, diciamo grazie a Andrea Andrea, sì, che mi aiuta Il tuo amico Andrea E Andrea e le altre persone che aiutano in questo evento che succedono qui in Italia Quindi è molto buono Hai una domanda tecnica per Gerico? Non troppo... Non troppo la sua esperienza Sì Hai una domanda che è difficile Hai una domanda che può essere chiesto oggi No, sai che è difficile perché... Tu sei fruttile Sì, quasi fruttile Sì, sai perché è la stessa differenza Quindi due livelli di diversi È un livello di rispetto a me Ma... La difficoltà è la stessa La situazione per le persone che restano qui Per accedere Magari Fabrizio ha una domanda Fabrizio, hai una domanda per Gerico? Non ho una domanda Perché il rugby non il football? Perché il rugby non il football? Perché il rugby è un gioco Il rugby è un gioco Non lo so che stoff Grazie Fabrizio per l'interessantissima domanda Cosa risposta? Ok, una domanda Qual è il tuo progetto? In Italia? No, nella tua vita La tua missione La tua evoluzione La generale evoluzione Questa è un progetto 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 Questa è una domanda Ma?! Questa è un progetto è essere open a essere un esempio di essere un esempio e essere ottenuto in modo che sia possibile, in modo che sia possibile, in modo che sia possibile. Questo è praticamente l'unico progetto che ho avuto. Io credo che c'è un movimento molto potente all'interno del mondo. Do you think we can do this in the planet? With all the people of the planet? We can try. We can try. There's a lot of theories. What do you say? How many time do you sleep? How much? It depends. It's never the same. The average. There's no average. For example, tonight after the meeting? Ten hours. Ten hours. Who knows, but I'll definitely sleep tonight. If I don't have a workshop, if I'm happy, I may not sleep. No sleep for how many times? Or maybe three hours, four hours, six hours, depends. It's never the same. It's never the same. For the same time a day. It's never the same. Put it on. It's no end. We can do that. Grazie a tutti.